Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza a quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la roccaforte di Donard, mi sono recato personalmente nel mercato cittadino, dove mi è stato suggerito un kit di articoli che vi porterà tra i banchi dell'Ateneo più ambito per ogni duellante. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio, il mercante consiglia Yu-Gi-Oh!, Speed Duel GX, Cofanetto Accademia del duellante ed Esami Paradox. L'articolo riporterà Jaden ed Aster, assieme ai loghi di riferimento del gioco e della modalità sulla parte frontale, questi ultimi, assieme ad altri personaggi iconici della serie sul fronte e dorso della scatola, plasma eroe del destino e uomo alato della fiamma eroe elementale raffigurati sui fianchi, e la lista del contenuto, tutto il necessario da sapere prima di procedere all'acquisto, e le tipiche informazioni legali del caso nella parte bassa dell'articolo. Una volta aperto il prodotto, vi darà il benvenuto un talloncino informativo, una bustina di plastica sigillata con ben otto carte rare segrete provenienti da un pool di 24, atti a migliorare i mazzi presenti nel cofanetto, quattro campi di battaglia in cartone che potranno tornarvi utili per iniziare a duellare muovendo i primi passi nella modalità Speed Duel, ed infine gli otto deck tematici che ripercorreranno le gesta del rispettivo proprietario apparso nella serie animata, come Jaden con i suoi eroi elementali che combinandosi tra loro formeranno sempre nuove e più potenti creature atte a portare giustizia nel mondo, assieme a mostri iconici come Burstrinatrix ed Avian, Aster che con i suoi eroi del destino ha terrorizzato il bene, gettando caos ed isperazione sui campi da gioco, rappresentando dapprima un anatema per il protagonista e poi un validissimo alleato, Chaz che a suon di draghi armati, macchinari XYZ ed ultimi, ma non per importanza, O'Jama ha saputo crescere come duellante ritrovando se stesso duello dopo duello, Alexis con le sue pattinatrici che attraverso rituali sempre più pericolosi ha dato del gran filo da torcere a tutti gli avversari che gli si sono ritrovati davanti, il dottor Crowler che con gli ingranaggi antichi ha messo alle strette nel test di ammissione Jaden, lasciando infine inevitabilmente il passo al talento del Ra Rosso in un finale di match al Cardiopalma, Zane, il migliore studente dell'Accademia, possessore del famosissimo Cyber Drago, che dopo la sua esperienza di studi ha intrapreso una strada oscura professionistica evolvendo il suo intero deck, popolandolo di mostri dall'animo nero, Jesse, che a tutti gli effetti, ditemi quello che volete, è il coprotagonista della serie, che con le bestie cristallo mi ha fatto innamorare di questa tipologia di deck, a tal punto da montarlo in standard, si parla di molto tempo fa, vincendo anche qualche local giusto per gradire, ed infine Axel, il dominatore del fuoco, che attraverso l'utilizzo dei suoi vulcanici ha impensierito e non poco i suoi avversari durante tutto l'arco della narrazione. In più saranno presenti un gruppo di 23 carte che vedranno figure già note a chi ha seguito la serie animata, come Don Zalug, Hydrogeddon, il drago arcobaleno oscuro ed il maestro di Oz, assieme a quattro carte abilità aggiuntive dedicate a Cyrus, Bastion, Assalberry e Yubel. Ok, Arconte, ed il deck di questi ultimi dov'è? Non c'era all'interno del cofanetto. Vero? Infatti ciò starà a rappresentare una sorta di to be continued, dato che, almeno per Bastion e Cyrus, i loro rispettivi mazzi saranno inclusi nella scatola degli esami Paradox. L'articolo anche qui riporterà nella parte superiore le figure a mezzo busto di Jaden e lo stesso Cyrus, con i gemelli Paradox apparsi per la prima volta nella serie originale durante l'arco del torneo dell'Isola dei Duellanti organizzato da Pegasus, il solo logo del gioco sui fianchi, Tempesta, eroe elementale ed il Guardiano del Cancello, il mostro principale dei gemelli raffigurati nella parte frontale e dorsale della scatola, e la lista del contenuto, tutto il necessario da sapere prima di procedere all'acquisto e le tipiche informazioni legali del caso nella parte bassa dell'articolo. All'interno del prodotto troverete 4 carte rare e segrete provenienti da un pool di 12 atti a migliorare i mazzi presenti nella serie GX, un campo di battaglia di cartone per combattere già da subito i primi duelli e 4 deck pronti all'uso che vedranno ancora Jaden ritornare con i suoi eroi elementali pronti a far trionfare la giustizia con carte nuove e sempre più spettacolari grazie alle fusioni degli eroi minori che daranno vita a veri e propri portenti, Cyrus, il miglior amico del protagonista che scendendo in campo si servirà dei propri droid per creare macchinari composti pronti per sferrare i propri attacchi contro i life points avversari, Bastion che con l'aiuto della chimica legherà i suoi mostri in esseri invincibili nati appositamente per riversare un torrente di elementi periodici contro le linee nemiche ed infine i gemelli Paradox che come per la prima edizione dell'anime anche qui si serviranno di labirinti per disorientare gli avversari, esseri terrificanti per renderli folli e i tre guardiani Sanga, Kasejin e Sujin che una volta uniti formeranno il temibile e potentissimo guardiano del cancello. Anche qui comunque saranno presenti ulteriori 11 carte addizionali che potrete utilizzare per montare deck sempre più ricercati e due carte abilità dedicate a Chumli e Jaden assieme a Sirius che andranno ad arricchire la rosa di possibilità che potrete selezionare rendendo il vostro deck imbattibile. In descrizione come sempre vi lascerò i link dove potrete sia acquistare il kit che comprarli separatamente così da prepararvi secondo le vostre specifiche esigenze all'esame di ammissione di questa accademia che vi proietterà verso i duelli professionistici. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!